L'inno di Mameli cantato con la lingua dei segni, la nazionale femminile di pallavolo ha vinto a Cagliari il campionato europeo per sordi, una vittoria netta in finale 3-0 con la Russia. La nazionale è allenata da una trentina, Alessandra Campedelli di Mori, fra le giocatrici anche Aurora Cristelli di Basilga di Pined. La CT commenta così l'oro europeo naturalmente con la traduzione nel linguaggio dei segni. Anch'io come le ragazze fino all'ultimo fischio dell'arbitro non ci credevo, nel senso che sapevamo che sarebbe stata dura, io ho chiesto alle ragazze di stare fino alla fine attente e concentrate, anche perché la Russia nonostante il 3-0 non era assolutamente una squadra da sottovalutare.